Ciao a tutti, sono Alice e oggi vi presenterò il meteo di sabato 9 marzo. Mattino, pomeriggio e sera, piagge schiarite. La temperatura minima 8 gradi, la temperatura massima 9 gradi. No, 12 gradi. Questo era il mio meteo, grazie a tutti e un saluto a mia mamma e mio papà.